Inizia questo mercoledì 17 febbraio il tempo forte della Quaresima 2021, che terminerà sabato 3 aprile, settimane importanti per tutti i cristiani, per imparare un modo diverso di stare al mondo, come suggeriscono dalla Diocesi di Verona, con una serie di proposte per ogni fascia d'età. Gli aspetti essenziali della Quaresima, che sono l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, il silenzio, un po' di penitenza, un po' di digiuno, questo ci fa rientrare un pochino più dentro noi stessi e ci avvicina di più a Dio. Ecco, quindi il primo passo è chiedere alle famiglie la preghiera e come ogni anno abbiamo predisposto un libretto con la preghiera quotidiana, la parola di Dio di ogni giorno, un momento di meditazione, un piccolo momento di preghiera e un piccolo impegno. Il sussidio alle famiglie è proposto dai centri missionari della Diocesi di Verona e di Gorizia. Ci sono anche altri sussidi per altre fasce d'età, come quello per i bambini degli elementari, proposto dal centro di Pastorale Ragazzi, un cammino video pubblicato ogni settimana sul canale YouTube. Per i ragazzi delle medie un altro itinerario fatto di video, giochi e testimonianze per la preghiera e la riflessione personale, che sarà caricato sulla piattaforma Padlet. E poi per gli adolescenti e i giovani, vivi, cammino di ascolto e riflessione della parola del giorno e, beati voi, itinerario di preghiera e accompagnamento spirituale. Sì, con i ragazzi e con i giovani si è puntato molto sul web, cioè sull'online. Ci sono proposte sia per i ragazzi sia per i giovani di accompagnamento, sempre attraverso la rete. È chiaro che non è la presenza, i ragazzi stanno soffrendo molto la impossibilità di ritrovarsi e noi chiediamo a tutte le parrocchie, a tutte le comunità di poter anche fare il minimo possibile, perché questi ragazzi si incontrino, magari in chiesa, magari in luoghi un po' più ampi. Però che ci sono i momenti anche di confronto personale, ma ritorniamo sempre all'origine, cioè che la Quaresima è un tempo personale e comunitario per rincontrare Gesù. E il fatto stesso del tema anche che viene proposto, che è vivi in Cristo. Questo tema, vivi in Cristo, ha questa parola un doppio senso. Vivi in Cristo potrebbe essere un imperativo, vivi in Cristo, e questo è più quello che hanno scelto i giovani, ma vivi in Cristo anche è la speranza che la Chiesa ci vuol dare, che la parola di Dio ci dà, che noi siamo comunque vivi in Cristo.